In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli Tragico incidente in Val di Non, solo un mese fa abbiamo festeggiato la sua pensione, il lutto per la morte di Tiziano Frasnelli, siamo increduli. Da più votato Failoni ha riconfermato Guglielmi, ci sono tutti gli assessori e gli accordi politici, ma poche sedie nella giunta, per Fugati l'ora delle scelte, vi stupirà. Un enorme masso a rischio crollo sopra i trampolini di predatto, fatto brillare con 10 kg di esplosivo. Camere con bagno, piscina e aero wellness, ma siamo in un rifugio, il gestore. Anche in montagna c'è chi cerca la comodità e noi siamo sempre pieni. Il Cipra, ruspe sui ghiacciai per i mondiali di sci, un Luna Park che ricorda il Gran Ballo del Titani, è uno show per pochi privilegiati. Il biglietto per la funivia costa 240 euro. I difetti visivi sono tanti, miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero Glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su GlamVision.it